Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del primo aprile. Ma io vi faccio una domanda, ma molto semplice, perché è una domanda di buonsenso secondo me, non è una domanda campata in aria. Se voi che mi ascoltate, e vi ringrazio perché siete sempre più numerosi, e anzi vi ricordo adesso su Facebook di mettere mi piace sulla pagina di Facebook, e coloro che vogliono mettere mi piace sulla mia pagina di Instagram è il contrario, cioè incrociamoci in maniera tale che poi le due community siano il più integrate possibile. Però io vi chiedo, in questo momento ci sono 18 milioni di italiani, 9,8 milioni di lavoratori dipendenti che per la gran parte saranno in cassa integrazione, ci sono 5 milioni di autonomi e ci sono 2 milioni e mezzo tra precari, colf, 3 milioni di partite IVA e professionisti, quindi stiamo parlando di 18 milioni di persone che sono lì in attesa del risultato del famoso decreto di marzo, il cosiddetto Cura Italia. Secondo voi i giornali sull'attuazione del decreto Cura Italia stanno facendo i titoli di prima pagina o li relegano a pagina 12 su qualche dettaglietto di questo decreto? Secondo voi il fatto che io e voi siamo qua che parliamo in questo istante è che l'Inps in questo momento non funzioni il sito come era prevedibile anche da una pianta, anche una felce capiva che oggi l'Inps non avrebbe funzionato. Secondo voi non è questo il titolo di apertura di un giornale? Decreto Cura Italia! L'Inps va in ospedale, nel senso che non funziona. Decreto Cura Italia! Ancora non è stata data la cassa integrazione. Oggi il pezzo milione su questa cosa lo fa, per la verità, Daniele Capezzone, che spesso ospita Quarta Repubblica, che peraltro vi annuncio che dovrebbe ripartire lunedì prossimo, fra poco vado a fare la riunione di redazione, quindi esco dalla mia segregazione e vado a fare la riunione di redazione. Allora, che cosa scrive Daniele Capezzone? Si attendono gli effetti del decreto di marzo da 23 miliardi, neanche un euro è ancora arrivato agli italiani, ma si parla dei mirabolanti miliardi che arriveranno da quello di aprile. E questo è l'Italia, è l'Italia dell'annuncio, è l'Italia del considerato che con il combinato disposto il rapporto 1 a 1 o 1 barra n, giuro che è la circolare che oggi è arrivata riguardo al passeggio con i figli. Il rapporto tra adulti e figli è 1 a 1 o n, 1 a 1, cioè è una roba incomprensibile. Nel frattempo oggi abbiamo il sito dell'Inps bloccato, e lo capiva anche una felce, e abbiamo Capezzone che giustamente ci racconta del fatto che noi stiamo parlando di questo mirabolanti. Arrivano 50 miliardi, arrivano 30 miliardi, diamo 800 euro, diamo 600 euro, non arriva nulla! Noi zitti e muti e parliamo delle grandi cose di cui tra poco parleremo. Valentina Conte, su Repubblica, in realtà fa un pezzo che vi segnalo, perché è un pezzo che uno dovrebbe prendere questo articolo e dovrebbe andare sotto il muso del Presidente del Consiglio, e devi dire, uno che si comporta così lo licenzi subito, immediato, immediato per giusta causa. Il Presidente dell'Inps si era distinto nelle settimane scorse dicendo che i 3 miliardi dei 600 euro venivano dati ai 5 milioni di italiani, cioè 3 miliardi per 5 milioni di italiani per 600 euro. Vabbè, vediamo se riusciremo a far quadrare i conti. Beh, questi 3 miliardi sarebbero stati dati con il click day, cioè siccome i soldi non erano sufficienti per tutti, chi prima c'era un giorno in cui si cliccava e si portavano i soldi nel giorno in cui si cliccava. Pensate un po' voi col sito in bomba quanto facevi il click day. Toc toc, tridico, magari scendi dalla pianta e cerca di capire come funzionano i tuoi uffici prima di fare le interviste. In realtà, ieri all'Inps, quei pochi che si sono collegati con l'Inps, sempre Valentina Conte, sentite un po' bene cosa diceva l'Inps ieri, che sarebbero stati assegnati le risorse dei 600 euro in ordine cronologico. Chi prima arriva, prima si porta a casa i soldi, che non mi sembra una straordinaria... Diciamo, vi racconto questo dettaglio. A Hong Kong, no Hong Kong, in Cina, ci sono delle fabbriche che fanno mascherine, poi ne parleremo. Sapete come funziona? Esce il proprietario della fabbrica, ci sono fuori 10 persone e con i soldi in mano lui assegna, il primo che arriva è quello che paga meglio le mascherine, è quello che sta avvenendo oggi per la gestione delle mascherine in Cina. E noi vogliamo fare la stessa cosa un po' con l'Inps, cioè chi prima arrivava, prima si prendeva il sussidio dei 600 euro, secondo un criterio di giustizia fantastico, soprattutto di questi belli comunistoidi che ci parlano di giustizia sociale, quindi chi arriva prima c'è la connessione migliore, che c'è il computer, c'è il pc, è una roba pazzesca nella sua ingiustizia. Però il punto è che ieri l'Inps, nel suo sito, lo leggo su Valentina Conte, oggi su Repubblica, diceva che l'ordine era cronologico nell'attribuire i 600 euro, se non che poi Tridico, chissà se è vero, ci dice che questo non è vero, che ci saranno altri criteri, che ovviamente non è dato sapere. Tutto questo oggi lo trovate su Repubblica. 18 milioni sono la platea di coloro che dovranno avere aiuti, secondo quello che dice il Sole 24 ore di oggi, ve li ripeto, 9,8 milioni avranno la nuova cassa integrazione di emergenza. Ma anche la cassa integrazione è stata fatta con i piedi, e non dico le parolacce perché oggi sono di buon umore, è stata fatta con i piedi perché ci vuole il preventivo, accordo con i sindacati, ma dove sta scritto? Ci abbiamo le nostre libertà, violate, ma non possiamo violare la libertà della concertazione sindacale, mandatevene a quel paese! E c'è un sindacalista della UGL, mi piace citarlo, che mi ha detto, mi ha scritto una mail, è stato molto carino, mi ha detto, guarda Nicola, che non sono tutti così sindacati, a noi di questa roba non ce ne frega niente, più o meno mi ha scritto così, adesso semplifico. L'UGL dice una cosa, ovviamente Landini può mai accettare che non ci sia la trattativa con la CGL prima di dare la cassa integrazione con i padroni cattivi che devono passare da noi? No, ovviamente no. Perciò, intanto, devi contrattare con i sindacati, deve essere fatta preventivamente l'accordo, i soldi non te li anticipa l'Inps, dovevi anticiparli tu, oggi leggo sui giornali che sarebbe stato fatto un accordo con l'ABI perché si riesce a far sì che le banche anticipino quello che deve darti lo Stato. Però io vi invito a pensare un'altra cosa, perché oggi non possiamo pensare che le banche in Italia, che a voi saranno pure antipatiche, facciano il, come possiamo dire, il prestatore di ultima istanza. E sulla CIG non funziona? E allora ci pensano le banche. E i mutui non riesce a pagarli? E allora ci pensano le banche. E non hai i soldi? E allora ci pensano le banche. Cioè, ragazzi, le banche poi saltano, le banche non creano i soldi, le banche non sono queste specie di cattivoni che ci hanno raccontato fino ad ora. Lo sono, si comportano anche come si sono comportate nel passato, ma se noi facciamo fare tutte le banche, allora aboliamo lo Stato, facciamo una bella e chiederanno anche qualche cosa in cambio, immagino, per tutto questo. Vabbè, questo per quanto riguarda l'economia, che non è finita, perché oggi Boccia scrive una lettera al giornale e si legge anche molto chiaramente sulle 24 ore, il PIL già per questo primo mese di blocco vale meno 6%, meno 6%, chiaro? Meno 6%. E nel frattempo Gualtieri fa un'intervista a chi? Ovviamente al giornale che non gli farà mai una domanda, perché così si comporta il fatto col governo, e dice tra pochi giorni il decreto per garantire la massima liquidità alle imprese. Ma io dico, ma invece di pensare dei decreti tra poco, ma perché non riusciamo a mettere a posto i decreti che abbiamo fatto fino ad ora, che fanno orrore, che sono scritti con i piedi e nessuno riesce a... Cioè noi continuiamo a fare un decreto come l'altro, col problema che l'economia sta morendo. Vabbè, intervista a Bonometti, presidente dell'associazione del Confindustria Lombard, una persona molto seria, con una bella azienda, che dice una cosa molto semplice, guardate che noi imprese abbiamo bisogno di avere prestiti e liquidità, che sì, ce le possono dare le banche, ma ci vuole, le banche ce le daranno, solo se su quei prestiti c'è una garanzia dello Stato. Mi spiego meglio. Piccola impresa ha bisogno di un prestito, ovviamente si spera a tasso zero. Questo prestito deve essere dato dalla banca, ma siccome la banca non può far beneficenza, chi è che garantisce la banca? L'ipoteca sulla fabbrica? L'ipoteca sulla casa di questo signore, come avveniva nel passato? O lo Stato garantisce alla banca che quei soldi verranno risati indietro? Ecco, se c'è questo meccanismo di garanzia statale, che è rischioso ovviamente per lo Stato, fa sì che il rischio passi dalla banca allo Stato e che le aziende riprendano liquidità. Nel frattempo il tempo oggi, a proposito di cose sul quale nessuno ragiona, perché i bottegai vengono considerati non ci piacciono, in realtà i bottegai sono quelli che tengono in vita una città, un centro storico, quelli che aprono le serrande, quelli che puliscono il marciapiede, quelli che tengono una luce accesa, quelli che danno sicurezza a un territorio, ma noi li trattiamo come se fossero i bottegai e i vasori fiscali. Bene, a Roma, secondo il tempo, ci saranno uno su tre dei negozi, verrà, non riaprirà, perché non sono in grado di pagare l'affitto per i loro negozi già oggi. Uno su tre. Capite che cosa vuol dire? Nel frattempo Luciano Capone ci spiega bene sul foglio cosa sta succedendo in Europa. Quello che succede in Europa è che questo eurobond non ce lo faranno fare, non lo vogliono i tedeschi, perché dicono che sostanzialmente già ci stanno aiutando con la BCE, con un piccolo dettaglio, che la BCE è un organismo indipendente e non dipende dalla politica tedesca. Quindi confondono un po' i ruoli, cosa che Luciano in questo caso non se ne accorge, anzi lo invito a tirare avanti questa considerazione. La Banca Centrale Europea non è la Commissione Europea, non è la politica europea, è un organo tecnico che non dovrebbe dipendere da quei due e ragionare in maniere tecniche. E quindi quando dicono già ci sta pensando la BCE, insomma è come dire, non so che qualcuno ci pensa, c'è Tizio che pensa a te, e chi se ne frega, è c'è Tizio. E Caio invece che dovrebbe fare gli eurobond non li farà e dice che faranno il MES, cioè noi prenderemo un prestito da un'istituzione già esistente e che però diciamo ci commissarierà in maniera un po' più leggera o meglio dice bene Capone in realtà le condizioni per il commissariamento saranno diverse rispetto ai prestiti generali perché questa è una pandemia che riguarda tutti. Boh, io non mi fido molto quando entri nel MES sai come entri ma non sai come esci. Nel frattempo la questione di giornata, arriviamo sulle questioni di giornata dei giornali perché l'economia non è un tema, non è la priorità dei giornali. La priorità dei giornali è capire questo decreto incomprensibile per il quale si può fare la passeggiata con i propri figli con i propri figli e hanno fatto un decreto che bisognerebbe leggerlo in dice si può uscire nel rapporto un genitore un minorenne aperta la parentesi cioè di età tra 0 e 18 anni ringraziamo lo Stato che ci spiega che cosa è un minorenne e questo rapporto può essere 1 a 1 o 1 a n questo è il decreto è incredibile quindi si può uscire con i minorenne a fare la passeggiatina perché i bambini possono prendere l'ora d'aria adesso mi chiedo i bambini devono prendere l'ora d'aria e gli anziani no comunque sia in realtà i rigoristi sono sempre lombardi gallera e campani con un piccolo dettaglio che i lombardi stanno in una specie di emergenza colossale e i campani potrebbero diventarlo ma insomma voglio dire modus e rebus però noi siamo lì con i belli nostri sceriffoni che sono belli felici io con l'immagine di De Caro il sindaco di Bari che ha fatto l'8 marzo mi sembra la grande festa col Papa vedendo tutti quanti e poi lo vedo dopo 20 giorni che prende a male parole chi va a fare la spesa al mercato urlando io dico toc toc De Caro chi sei? quello che faceva i bacetti al Papa l'8 marzo o quello che fa lo sceriffo dopo 20 giorni perché non possono essere la stessa persona come lui tanti altri non è solo lui però comunque la cosa certa è che questo decreto di far uscire da casa le persone che bambini che io trovo giusto da parte del governo non è accettato dalla regione Lombardia e questo però lo capisco per l'emergenza in cui si trovano e non è accettato dalla regione Campania beh ma poi c'è un'altra cosa stupenda su questa roba del decreto e cioè che a parte diciamo l'incrinamento tra i rapporti tra regioni eccetera beh poi c'è il fatto il fatto bisogna come dico sempre leggerlo perché capisci cosa pensa Palazzo Chigi adesso il fatto fa una pagina intera la prima pagina con la foto dell'ospedale di Milano che è stata fatta da Bertolaso la cui lettera e sono contento che sia meglio è scritta sul giornale e qui fondo fa riferimento sallusti beh hanno fatto l'ospedale di Milano in 15 giorni che è un ospedale non è un ospedale da campo è un ospedale vero e proprio e sapete qual è la cosa stupenda che il fatto dice tutto merito di Roma no io non ci potevo credere quando questa mattina ho visto che l'ospedale di Milano è tutto merito di Roma quando Roma ha fatto di tutto per non farla fare e lo sanno anche i bambini ma non lo sanno i giornalisti del fatto dicono eh sono stati a Roma aver comprato i materiali per Milano beh forse sì qualche materiale sì ma io sono abbastanza di percetto che Bertolaso ha fatto le acquisti direttamente però per il fatto quotidiano che non ci vuole stare e che modifica sempre la realtà come tutti quanti i giornali orbaniani di governo beh insomma anche il fatto quotidiano dice che l'ospedale della fiera deriva da Roma e non ridono e non c'è Spinoza che gli fa la battuta questi si sono bevuti il cervello cioè da una parte c'è il giornale unico del virus e dall'altro c'è il giornale del partito che è il fatto quotidiano non è un ospedale da campo ci tiene a sottolinearlo Bertolaso sul giornale così come Sallusti dice come per il ponte Morandi così l'ospedale di Milano dimostrano che l'Italia ce la può fare quando lascia perdere la burocrazia quando ci sono i privati che se ne occupano viola qualsiasi norma degli appalti va diretto a risolvere i problemi va bene questa è una cosa seria ma in realtà queste cose serie non si possono fare se non in emergenza dice giustamente il Ada De Luca dice i bambini devono rimanere a casa perfetto diciamogli anche per quanto se volete facciamo rimanere i bambini per casa in 50 metri quadri per i prossimi fino a maggio fino a metà maggio ma tutti noi tanto siamo tutti gli arresti domiciliari non c'è problema ma quale merito Roma il remerito di Fedez Fedez ha fatto il San Raffaele avete ragione ci sono due ospedali uno è l'ospedale diciamo della fiera che hanno fatto Ruffini i due milioni del giornale i privati e l'altro è il San Raffaele Fedez e la raccolta di fondi che ha sponsorizzato nel frattempo c'è quel pezzo un bel pezzo oggi pagina 2 pagina 3 di Repubblica che oggi è piuttosto interessante sulla beffa delle mascherine toc toc Arcuri ma non avevi detto che in 96 ore sarebbero state pronte le mascherine Repubblica è spietata nonostante poi lo sente Arcuri perché il direttore so come funzionano queste cose sì però non me l'ammazzare Arcuri dai fagli un'intervistina come se nulla fosse se voi andate a vedere il pezzo di Repubblica vi racconta la follia di queste mascherine ci sono importatori e questo ve lo dico io che già ce le potrebbero portare dalla Cina e non gli fanno parlare ci sono aziende italiane che vorrebbero produrle ma in realtà ci sono talmente tanti casini nella produzione delle mascherine autorizzazioni finte autocertificazioni come scrive bene oggi il pezzo di Repubblica che nessuno è ancora in grado di farle nel punto di vista sanitario saremo arrivati ai picchi dei contagi speriamo in Dio dice l'Istituto Superiore della Sanità e però la cosa interessante la segna Zecchi sul giornale questi virologi sono uno contro l'altro nei talk show dicono tutto il contrario di tutto ma non solo nell'arco di questi due mesi di emergenza da febbraio e oggi hanno detto tutto il contrario di tutto uso mascherine non uso mascherine il contagio e non contagio il picco massimo arriva Burioni arriva o non arriva zera possibilità che arrivi poi è arrivato forse tranne la capua che ha avuto un atteggiamento molto costante nel tempo forse per chi non vive in Italia quindi la guarda in maniera distaccata gli altri si appiccicano uno con l'altro l'Ite basta con questi virologi nei talk show dice Zecchi beh insomma e l'imbunologo Montavani oggi invece dice una cosa ancora e dice basta con queste sperimentazioni su delle medicine e questo raccontare cure che sono arrivate risolutive che in realtà fanno malissimo tra l'altro oggi mi sembra di aver letto da qualche parte è sul tempo che abbiamo autorizzato un farmaco che loro definiscono killer non è killer che ha degli effetti collaterali altissimi perché tutti questi farmaci del virus gli antivirali quelli dell'HIV la clorochina eccetera hanno degli effetti collaterali sono tutti qua dei fenomeni vi ricordate quando abbiamo parlato del farmaco giapponese è diventato un mito quel farmacista che stava in Giappone e poi abbiamo detto quello contro gli reumatismi e poi gli anti-HIV poi abbiamo visto quelli di Ebola insomma Mantovani ci riporta tutti quanti secondo me un po' per strada nel senso che i nostri virologi i nostri medici hanno perfettamente idea di come curare la nostra libertà cioè toglierla ma non hanno idea di come curare questa malattia non ce l'hanno non ce l'hanno non riescono a capire ancora quale sia il test virale non riescono a capire se siamo contagiosi per quanto tempo ma è che è normale non gliene faccio una colpa solo che mi chiedo perché sono così laici così bravi nell'avere il dubbio sulla loro materia scientifica e sono invece così sicuri in come evitare il contagio cioè su evitare il contagio sono sicuri al 100% togliamo le libertà agli italiani nel curare la malattia ovviamente è più complicato poi Gandola divertente oggi che ci racconta come solo Fazio in tutta la RAI riesce ad avere un ospite in studio e chi è l'ospite in studio? Burioni cioè Burioni che ha rotto i coglioni a tutto il mondo dicendo che non si può andare in giro il contatto eccetera però in studio da Fazio ci va perché ovviamente io può e Fazio pure io può è Gandola che ce lo racconta molto gustoso sulla verità di oggi e l'altra cosa che però io vi devo dire anche se so che molti di voi non la penseranno come me ma questa cosa di denunciare Conte perché lo leggo come apertura oggi della verità denunciamo Conte per disastro ambientale per disastro io trovo che sia ridicola un politico anche se non è stato eletto ma che ha una rappresentanza parlamentare che lo ha votato ed è diventato presidente del consiglio si caccia a calci nel sedere con maggioranze parlamentari l'idea che noi ci si debba rivolgere a un magistrato per denunciare Conte mi fa orrore sapete voi quanto mi stiano simpatici Conte e Casalino ma questi due sono da mandar via bene quando e come faremo delle elezioni o cambiando le maggioranze parlamentari l'idea che adesso il giornale che ha difeso Salvini e giustamente lo ha difeso contro l'attacco della magistratura per sequestro di persona faccia l'occhiolino agli avvocati che denunciano Conte è l'Italia che non mi piace Conte io lo vorrei che insomma avete capito non sono un amante di Conte ma che vada via per via da avvocati è la solita storia italiana se attaccano Salvini che è amico mio i magistrati è sbagliato ma se i magistrati indagano Conte per cosa è giustissimo e no e non cadiamo in questa trappola vi prego ovviamente sono troppo intelligenti quelli della verità per caderci però attenzione perché l'idea di essere compiaciuti perché degli avvocati lo denunciano io non sono per niente compiaciuto e tanti mi hanno scritto denunciamo firma qua e non firma sottovalutato l'emergenza vabbè ma che facciamo denunciamo Boris Johnson denunciamo Macron denunciamo gli spagnoli allora io penso che politicamente deve andare via immediatamente ma non attraverso un'aula di un tribunale sarò l'unico a pensarla ancora così ma l'ultima cosa che vi ricordo è questa quest'altra cosa fantastica Toscani quello che si era compiaciuto per il ponte quella specie di fotografo che deve soltanto le sue provocazioni da comunistello di provincia un po' embriaco la sua carriera beh adesso sapete come si è ripreso e ovviamente Repubblica gli dedica sempre una pagina perché se io avessi detto una cosa sul ponte Morandi che deve cadere sarei stato bandito da tutti però che volete che sia è caduto un ponte se avessi detto una cosa così non mi avrebbe più sentito nessuno se lo dice Toscani oggi si prende mezza pagina di Repubblica in cui fa questa idea geniale qual è l'idea geniale del grande genio Toscani a casa fatevi un selfie e mettetela su internet Toscani porca miseria si vede che il tuo cervello funziona ti sei preso troppo nero di troia nella tua vita evidentemente io vi do appuntamento più tardi vado a fare la lunedì di redazione lunedì arriverà Quarta Repubblica vorrei che foste tanti a Quarta Repubblica come lo siete qua sul Facebook e su Instagram mi raccomando scrivete mi piace così avrete tutte quante le notifiche sulle dirette di queste nostre dirette ciao